La prima nave con il primo carico commerciale sbarcherà sulle banchine della piattaforma logistica sabato 30 gennaio. Sarà il vettore inaugurale effettivo del nuovo terminal multifunzione del porto di Trieste sotto legida della Hamburger Hafen Unlogistic che ha acquisito la maggioranza della società concessionaria dopo aver staccato un assegno da 12 milioni e 800 mila euro. A parlare per la prima volta dall'acquisizione su traffici e prospettive è Philip Swins, managing director di Ala International. Trieste per noi è molto importante, Hamburgo è la porta d'accesso chiave per il nord Europa e la ragione dell'investimento su Trieste è che riteniamo che abbia un grande potenziale per diventare la porta del sud Europa. Dunque la domanda crescente sul porto di Trieste e i vettori sui quali si sta lavorando per dare sostanza operativa al progetto. Sono molto sorpreso della grande domanda che c'è per Trieste, questo è un terminal multifunzione, la piattaforma può cogliere tutte le navi, tutte possono utilizzarla, non c'è un settore specifico. Abbiamo una reazione molto positiva dal mercato di compagnie molto interessate a lavorare su Trieste, anche linee e compagnie che prima non avevano mai chiamato Trieste. Swins poi ha sottolineato l'asse di ferro che il porto teutonico ha creato nel tempo con la Cina e le sue compagnie di Stato, costituendo l'hub europeo della nuova via della seta. Abbiamo relazioni molto buone con le compagnie cinesi, dalla Costco alla China Merchant e chiaramente lavoriamo per cooperare con loro e sviluppare i trasporti in arrivo dall'est, Cina o Asia che sia, all'Europa ovviamente per il futuro. Approfondito poi il tema centrale dell'asse Trieste-Amburgo, che secondo il braccio operativo della compagnia deve partire da una svolta nella mentalità dell'approccio alla portualità sul Mediterraneo. La sfida, secondo Swins, non sarebbe quella di portare via direttamente traffici agli altri porti del nord, ma di proporsi come un vettore unico dal sud al nord Europa, in grado di fornire non solo banchine, ma un intero sistema logistico integrato. Il mercato sta cambiando, lo sviluppo tra nord e sud delle linee sta cambiando, le compagnie si stanno muovendo sempre più sul Mediterraneo, quindi la strategia non è di portare via traffici al nord Europa, ma di avere porti complementari a sud e a nord e avere contemporaneamente un sistema di trasporto efficiente dai porti all'interno del continente. Grazie a tutti!